Martedì 17 potrebbe essere una giornata importante, ben ritrovati amici rossoneri di Milanello, la casa del Milan qui su YouTube Vi ricordo come sempre di iscrivervi, in questa zona c'è la banderina rossonera, cliccate o pigiate, attivate la campanella Entrate a far parte gratuitamente della nostra community, questo è il mondo rossonero, ognuno di voi è un puntino e insieme formiamo questo logo MH Milanello Lasciate un like se vi va ragazzi e se vi piace questo video, con un bel titolo finalmente, una parola che ci piace In generale finalmente una bella parola perché significa che qualcosa che desideriamo da un po' finalmente si è realizzato o si sta per realizzare Poi nel titolo sopra indiscrezione molto 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 interessante, avete visto Florenzi e avete visto Vlasic Partiamo da Florenzi, giocatore che tutti conosciamo ma voglio dare qualche indizio in più perché sta per diventare un giocatore rossonero Oggi, forse già oggi finalmente o al più tardi domani, io credo che per oggi possa essere la giornata finalmente buona Florenzi che ha 30 anni ne farà 31 il prossimo marzo, ha un contratto di scadenza nel 2023 con la Roma E arriviamo finalmente alla fumata bianca, di fatto devo dire più alle condizioni del Milan Vi dicevo è un problema di formula, loro volevano l'obbligo, il Milan voleva diritto, il Milan diceva ti paghiamo lo stipendio La Roma diceva no io voglio anche i soldi, alla fine si dovrebbe concludere con un milione di prestito oneroso Un prestito oneroso che dovrebbe essere quantificato, ripeto, in un milioncino Più un diritto di riscatto che potrebbe girarsi intorno ai 3,5 Quindi se il giocatore va bene il Milan esercita il diritto a 3,5 lo ha pagato 4,5 Se il giocatore va male il giocatore torna alla Roma e la Roma comunque ha incassato un milione e ha risparmiato i 2,8 di ingaggio D'utilità clamorosa per Florenzi e spero oggi di darvi l'ultima ora con l'ufficialità di Florenzi Ha fatto 172 volte il terzino destro, ha fatto 101 volte il centrale, ha fatto 46 volte l'ala destra, il centrocampista di destra 24 volte L'ala sinistra 19 volte, addirittura il trequartista 11 volte e il terzino sinistro 2 volte Guardo il diagramma, ve lo faccio vedere, facciamo così, ve lo faccio vedere Questo è il diagramma, il grafico, dove lui ha giocato, guardate, è pieno di pallini, ogni pallino è dove lui ha giocato Più il pallino è grosso più volte lui ha giocato in quella posizione E vediamo, questo è il terzino destro, anche da centrocampista appunto e da esterno di destra Ma vedete ci sono un po' dappertutto dei pallini, segno di estrema d'utilità Milan gli conferma l'ingaggio, non gli dà ovviamente un aumento Lui viene a giocarsi le sue chance anche di tonalità perché appunto è un giocatore dal grande curriculum Con 227 partite e 25 gol e 29 assist in Serie A E come vi dicevo ha fatto anche 45 partite e 2 gol con la Nazionale Ha fatto anche la Champions, insomma un giocatore molto importante Che quest'anno, o meglio l'anno scorso nel PSG ha fatto 21 partite e 2 gol e 1 assist in Liga Non ha avuto problemi, 10 partite in Champions League 814 minuti significa che in Champions le ha giocate pressoché tutte Tranne qualche volta che è stato sostituito negli ultimissimi minuti Io sono molto contento, estrema d'utilità Destra, dietro, destra in mezzo, destra avanti Destra un po' più al centro, centro-destra metà campo, sinistra quindi molto bene Lui vuole il Milan, appena ha saputo che c'era il Milan Ha rifiutato, ha chiuso meglio un discorso con il Sevilla E ha detto al suo procuratore Lui ci voglio solo il Milan Lavoro diplomatico di Lucci Che porterà, ripeto, mi aspetto forse già oggi Credo oggi, la fumata bianca con Alessandro Florenzi Così che lui possa arrivare e essere convocabile per la gara La prima, la prima tra sei giorni Tra due settimane esatte sarà il 31 Commenteremo in serata il 31 La chiusura del calcio mercato Sarà un martedì come martedì oggi E secondo me, alla fine, quando faremo il bilancio Sarà un bilancio, ripeto, buono Spero buonissimo C'è qualcuno che fa ironia perché ho detto Arriveranno 4-5 acquisti Io credo, ribadisco, che arriveranno 4-5 acquisti Se non 5-4 Nella peggiore dell'ipotesi 3 Ma io credo che siamo più quantificati con il 4-5 E il primo appunto di questi 4-5 sarà Florenzi Mi aspetto che di questi uno Possa essere Nikola Vlasic Perché ci sono delle novità E ci sono delle iscrizioni importanti Vlasic, lo ricordo perché non tutti siete tenuti a saperlo Anche se ne abbiamo parlato spesso qui Addirittura per la prima volta a marzo 4 ottobre 97 Farà 24 anni appunto tra qualche mese 1,78 Croazia, CSKA Mosca Ocesca Mosca Scadenza 2024 Lui ha fatto 132 volte il trequartista 36 gol e 26 assist 39 volte l'ala destra Quindi si può abbinare anche a Brian Diaz Con 3 gol e 3 assist 21 volte l'ala sinistra 1 gol e 4 assist Ha fatto anche la punta centrale per 13 volte Con 3 gol e 4 assist Sentite quanti gol e quanti assist Ha fatto la seconda punta con 10 gol 3 assist Scusate 10 partite 3 assist e 3 gol Anche qui il diagramma secondo me è molto Il grafico è molto rappresentativo Credo che siate in grado di vederlo Sì Guardate Da metà campo in su ha fatto tutti i ruoli In mezzo Sinistra, destra, avanti E il Milan lo prende per fare il trequartista Ma l'occorrenza può fare anche Il giocatore sull'esterno di destra Potrebbe fare Rebic, Diaz E appunto Vlasic con la punta O Pioli potrebbe fare Rebic, Vlasic e l'esterno di destra Salemi e Chris piuttosto che un altro profilo che potrebbe arrivare Lui vuole il Milan Lo ha ribadito Lo ha detto al suo club All'inizio si era messo un po' i margini Poi è rientrato con la promessa che Il club l'avrebbe accontentato di fronte a un'offerta importante Il papà lo spinge fuori La gente lo spinge fuori Qualche giorno fa il presidente del CSKA ha detto Può partire sì ma si devono arrivare i soldi veri Ecco l'indiscrezione che arriva direttamente dalla Russia Racconta di un'apertura del club russo A un prestito oneroso Con diritto e non obbligo di riscatto Un prestito alla Maldini Un prestito alla Elliot Perché le cifre sono Secondo quello che arriva appunto dalla Russia E che potrebbe accontentare forse il club russo Il CSKA 10 milioni di prestito oneroso Più 20 diritto di riscatto Quindi La formula tonali Io lo pago 10 milioni Se mi va bene Poi posso spendere altri soldi Se mi va male Ho speso questi 10 milioni Non escludo che poi Si possa inserire la formula Ulteriore dei 5 milioni Che c'era con il Brescia Cioè il Milan dice il CSKA Se il giocatore va bene Lo prendo Se non va bene Dei 10 milioni 5 me li devi ridare Così che magari si possa ridiscutere il tutto In ogni caso per il Milan sarebbe importante portarlo qui Poi in qualche modo faremo L'anno prossimo eventualmente Vediamo se può essere la formula vincente Con il Milan che non vuole spendere con l'obbligo E la filosofia di Elliot Li prendiamo Magari li paghiamo una parte per l'affitto Se vanno bene li confermiamo Altrimenti no Se non vanno abbastanza bene Ridiscutiamo poi la formula Come è successo appunto con tonali E il Brescia Vediamo se questa può essere la formula vincente La discrezione autorevole arriva direttamente dalla Russia Il giocatore vuole il Milan E continua a dare priorità al Milan Il Milan vuole Vlasic Come trequartista Un giocatore in grado di fare gol E fare assist Nell'ultima stagione In totale Volevo recuperare la Champions In realtà lui ha fatto 3 partite Il campionato russo con un assist In questa stagione In Champions 18-19 6 presenze 3 gol Ha segnato a Real Madrid E 2 assist A me piace tanto Lo sapete E si riuscisse ad abbinare A un estero di destra In grado di fare gol Sarebbe il massimo 26 partite 6 gol Con la Nazionale Croata Il Milan prova ad accelerare Si prova a trovare l'accordo Con un prestito Oneroso Con diritto E non obbligo Su questo binario Secondo me si può arrivare Al traguardo Ovviamente deve essere d'accordo L'una E l'altra società Intanto prepariamoci Ad accogliere Florenzi Che in copertina Avetevi già visto Con la divisa rossonera Lasciate il like Se vi è piaciuto questo video O se siete cuori rossoneri O se siete di questa nostra Community rossonera Milanello Iscrivetevi Qui o qui Non lo ricordo più Perché ho rispecchiato l'immagine E se vi va Abbonatevi qui sotto C'è il link Vedete a seguirevi su Instagram Se vi va Ma le domande Qui su Milanello Le domande sul Milan Un abbraccio Forza Milan Oggi più che mai Domani ancora di più D'utilità Gol Esperienza Dai Forza ragazzi Un po' più di fiducia Vi chiedo un po' più di fiducia Vedrete che alla fine Andremo d'accordo Ciao